Laviamo i pennelli da trucco con questa macchinetta. Allora, me l'hanno appena regalata, quindi è nuovissima, non so. Oddio, oddio, oddio. Ok, non so come funziona. Da quanto ho capito devo riempirla di acqua fino a qua, quindi facciamolo. Ok, a questo punto devo aggiungerci la soluzione per lavare i pennelli, che è questa. Ok, fatto. Non so quanta ne devo mettere, sinceramente, ma ne metto un pochino. Richiudiamo il tutto. Adesso praticamente devo infilare i pennelli qua nel tappo. Ok, messi alcuni e adesso andiamo a infilare qua dentro. Ok, adesso si aziona. Nel frattempo questi tre che sono rimasti fuori li vado a lavare su questo, che è uscito sempre dalla stessa confezione. Ovviamente sempre usando questa soluzione qua. Spento e vediamo adesso come sono usciti fuori. L'acqua è sozzissima. Li vado giusto a sciacquare sotto l'acqua, dove sto per togliere la schiuma. Chiaramente lo svuoto. Allora, raga, devo ancora sciacquarli, però, ad esempio, questo è bianco. Cioè, assolutamente, questo qua è quello che usavo per il contour, quindi immaginate quanto era scuro. E adesso è bianco. Questo, ad esempio, era quello del correttore. Ma, wow! Toglie un sacco di tempo sta cosa, top! Adesso li ho rinfilati e li vado a rimettere qua, perché in teoria asciuga anche. Ovviamente senza acqua, ma solamente con l'aria. Questi altri li faccio asciugare così, alla vecchia maniera. Ok, boh, non so quanto deve stare sinceramente, andiamo a verificare. Un po' l'asciugato, però sicuramente è ancora bagnatino, come si può vedere. Quindi sicuramente per la pulitura, pulizia, non so come si dice, top. Ma per l'asciugatura, meh. Comunque è abbastanza utile, io penso che li lascerò così e li faccio asciugare a testa in giù. Comunque è abbastanza utile, io penso che li faccio asciugare a testa in giù.